Non metta dentro le dita Vediamo se è pericoloso Vabbè Ragazzi Ci tocca, uno alla volta dobbiamo toccare Sì, almeno qualcuno va via Ma anche quello che onestamente non è quello Quale? Ma quale? Non ce n'è uno davanti No, però questo Aspetta, vedo una cosa qua Vabbè, è anche isolato Non ha fili scoperte alla fine Non sarà fili scoperte Guarda, è anche una presa sicura Che non puoi neanche infilargli un chiotto Il corrente dentro È più o meno C'è la calvavilla E l'acqua Dov'è il filo che diceva? Dov'è il filo che diceva? Il filo che diceva Questo qua Ma anche va bene Ah, vabbè Siamo passati Siamo passati Siamo passati L'altra mattina di Alpireti Grazie.